Sì, vi avevo promesso delle novità, le novità riguardano innanzitutto Sergio Almiron che nonostante la ferita rimediata contro la Roma sta bene, giocherà domani contro il Genoa. La novità negativa riguarda Davide Suazzo che si è nuovamente fatto male quindi dovremmo attendere ancora per vederlo titolare, per vederlo in campo dal primo minuto con la maglia del Catania. Ne ha parlato Vincenzo Montella questa mattina in conferenza stampa, ha anche parlato di quello che ha lasciato la partita con la Roma, sentiamo. La partita ci dà un po' di convinzione perché mi ha fatto una buona prova contro una Roma in un grande momento, ci dà un punto in più in classifica e quindi ci dà una posizione di classifica un po' migliore. Non ci basta perché vogliamo tornare a vincere, abbiamo bisogno di tornare a vincere anche per la classifica e quindi sarà una partita la prossima dove sicuramente avremo bisogno di mettere in campo tutte le nostre potenzialità perché affronteremo un avversario che a sua volta ha trovato una nuova dimensione. Montella ha anche parlato dei nuovi arrivi, soprattutto di Marco Motta e ha voluto chiarire in che ruolo giocherà Marco Motta perché in settimana si era parlato di un suo possibile utilizzo come terzo centrale, Montella ha voluto chiarire tutto, sentiamo. Almeno per adesso lo vedo come quarto di una difesa a quattro o quinto di una difesa a tre, insomma difficilmente credo possa giocare in una difesa a tre. Essendo uno dei tre perché vorrebbe limitarlo molto perché è un giocatore che ha grande corsa, grande resistenza e sicuramente come esterno riuscirebbe a esprimere appieno le sue caratteristiche. Il tecnico rosso azzurro ha anche parlato del Genoa e dell'assenza importante per la squadra di Pasquale Marino di Alberto Gilardino, un'assenza che potrebbe essere un vantaggio ma anche uno svantaggio per il rosso azzurro. Rivediamo. Il Genoa potrebbe giocare appunto 4-4-2 se lo consideriamo un attaccante puro oppure potranno mettere dietro una mezza punta oppure potrebbe giocare anche col 4-3-3 secondo me quindi ogni tre soluzioni ce le hanno. Sicuramente mancando Gilardino gli mancherà un giocatore importante però dal canto nostro sicuramente marcare un centroavante sarebbe stato più facile preparare magari la partita. In questo caso potrebbe essere un po' più difficoltoso però voglio dire è una situazione che bisogna saper gestire in ogni caso. E infine un pensiero, un pensiero molto carino da parte di Vincenzo Montella nei confronti di Alessandro Potenza, il brutto infortunio durante il riscaldamento di Catania-Roma. Per lui stagione finita sentiamo le parole di Montella su Alessandro Potenza. Mi dispiace anche per Alessandro perché stava vivendo un ottimo momento anche fisico, un giocatore che ci dava più soluzioni, dispiace, da parte mia approfitta anche di voi, delle telecamere per augurargli una presta guarigione. Queste quindi le parole di Montella nei confronti di Potenza per il momento è tutto la Torre del Grifo e ci sentiamo fra pochissimo per le probabili formazioni di Catania e Genoa. Grazie a tutti.